Cosa c'è dentro questo scatolotto? Che cos'è questo? È il vecchio router ripetitore di segnale wifi che ha deciso di non essere più performante ovvero non mi trasmette più il segnale wifi come voglio io al piano di sopra quindi ho deciso di sostituirlo con questo Ho deciso di sostituirlo con questo router di potenza dicono 750M che non è per metri ma per potenza wireless router ovvero questo nuovo router di marca Urant ti metto il link sotto così mi dici anche te che ne pensi dovrebbe sostituire il TP-Link che è una marca molto più nota ma che purtroppo ultimamente non per il teleferenze wifi ma forse perché dopo anni di ripetizione e estensione del segnale internet da un piano all'altro ha deciso di andare in pensione Vediamo se il nuovo wireless router Urant che promette dalla descrizione su Amazon quindi sul negozio Urant di fare anche da ripetitore wifi di segnale amplificatore con tre antenne e anche router vediamo se è all'altezza vediamo innanzitutto cosa c'è nella scatola nella scatola appena aperta eccola qua c'è il manuale che è in inglese ci ho dato un'occhiata un cavo di connessione e il router wireless extender vediamo un po' come funziona questo aggeggio ha tre antenne che possono essere come vedi alzate e orientate come meglio vuoi eccolo qua la terza antenna sta sopra se te lo giri puoi alzarla in questo modo e si presenta così vedi? e qui c'è la spina come vedi dal manuale che è molto diciamo esplicativo questo aggeggio può lavorare in repeater mode ovvero in modalità ripetitore di segnale ed è proprio quello che mi interessa a me nel mio caso perché voglio ripetere il segnale del router che già ho del mio gestore telefonico di ADSL internet veloce voglio ripeterlo e amplificarlo per il piano di sopra dove non mi arriva più con il ripetitore TP-Link andato in pensione il segnale questa è la prima modalità di utilizzo e la andremo a vedere perché è proprio quella che andrò a utilizzare vediamo la seconda e la terza modalità di utilizzo e vediamo se è all'altezza di quello che dice la seconda modalità di utilizzo è in access point mode e qui c'è una guida di installazione e la terza modalità di utilizzo è router mode ovvero fa anche da router volendo e le tre modalità vediamo se possono essere attivate in contemporaneo oppure no qui il manuale è in inglese come puoi vedere è una guida di installazione veloce nel prossimo video ti farò vedere come installare questo aggeggino che è qua l'ho piazzato qua proprio sul computer e ti faccio vedere anche se funzionerà come da aspettative oppure no se puoi vedere qua proprio per la modalità router mode c'è il buco per la lan e per la vlan e qui c'è la spina poi ci stanno tutte le varie prese e i vari indicatori per la lan, la vlan, il 2.4g e 5g quindi è un router di nuova generazione naturalmente il prezzo è abbastanza competitivo vediamo come si presenta e come si comporta soprattutto nel prossimo video l'ho ordinato dal negozio su Amazon quindi su internet di Urant è arrivato veramente in due giorni lavorativi mazza velocità eccezionale lasciami sotto nei commenti che cosa ne pensi io intanto lo scarto perché è ancora nuovo vedo se con una mano sola riesco poi con la sinistra capirai se riesco a togliergli questo cellofan eccolo qua si toglie dall'escato ecco almeno si sudiscalda anche di meno in questo giornale abbastanza caldo e intanto te vedi un attimo le specifiche al link che ti metto sotto e scrivimi che cosa ne pensi adesso ti ringrazio tanto per la tua attenzione spero di esserti stato utile spero di esserti utile ancora di più nei prossimi video perché ti farò vedere all'opera se e come funziona per ora ti ringrazio se ti è stato utile pollice all'insù e condividilo sui social un salutone da Leonardo grazie ciao ciao